Durante i colloqui in segreteria di Stato è stato espresso compiacimento per le buone relazioni tra la Santa Sede e la Repubblica Argentina e la volontà di rafforzarle ulteriormente. Ci si è poi soffermati sul programma del nuovo governo per contrastare la crisi economica e quanto si legge in una nota della Santa Sede relativa all'udienza concessa da Papa Francesco al Presidente dell'Argentina Xavier Milei. Clima disteso e cordiale tra i due dopo le dichiarazioni fatte da Milei durante la campagna elettorale, frasi aggressive e indirizzate al Pontefice. L'incontro, durato circa un'ora, è stato anche l'occasione per toccare alcuni temi di carattere internazionale, prosegue la nota vaticana, in particolare i conflitti in atto e l'impegno per la pace tra le nazioni. L'udienza è stata caratterizzata anche da uno scambio di doni. Al Pontefice sono stati regalati i tipici dolci argentini farciti con la crema di latte e zucchero e dei biscotti al limone. Oltre all'annullo filatelico dedicato dalle poste argentine a Mama Antula, la prima santa argentina, è una copia del documento con cui il governo del paese accreditava Joan Battista Alberdi come incaricato presso il Papa. Il Santo Padre invece ha offerto a Milei un medaglione in bronzo ispirato al Baldacchino di San Pietro, i volumi dei documenti papali, oltre a una copia del messaggio per la giornata mondiale per la pace di quest'anno.